La Fondazione Provincia di Brescia 20 e Provincia di Brescia presentano Cell Martinengo, un progetto che per i prossimi mesi veste un ruolo propulsivo nel settore della cultura. Sono oltre 50 i comuni che la Fondazione ha messo in rete, creando un circolo virtuoso di cultura attiva, creativa e responsabile. Il Plazzo Martinengo, in via Musei 30 Brescia, ospita tre mostre. Dal 4 al 27 settembre, Vai Window, storia di una quarantena, di Matteo Sanvero. Dal 2 ottobre al 22 novembre, I giovani sotto il fascismo, il progetto educativo di un dittatore, Centro Studi RSI di Salò. Dal 28 novembre al 20 dicembre, Le Stanze del Contemporaneo. Premio Nocivelli 2020, Associazione Culturale Teche. Facciamo una presentazione come Fondazione Provincia di Brescia 20 del semestre che prosegue le grandi mostre qui a Palazzo Martinengo, ma che sostanzialmente è anche un po' la presentazione di come, dopo l'accordo fatto con la provincia, ormai la Fondazione gestisce per 4 anni, ormai consecutivamente, tutto il Palazzo Martinengo. È un grande lavoro iniziato 4-5 anni fa dalla Fondazione, di fare progetti di lungo periodo, tra i quali inseriamo Etica, Festival, la collaborazione Il Grande in provincia, adesso anche la collaborazione che faremo col CTB. Questa idea di portare grandi, di grandi progetti di medio-lungo periodo che possono durare per il tempo. Perché la cultura si costruisce così. La magia della vita è tutta questa. Costruire attraverso la cultura un mondo migliore. Ecco, oggi noi presenteremo quelli che sono i tre eventi che colmeranno questi sei mesi per arrivare a fine anno, compatibilmente con tutte le norme Covid che ci sono, ma la cultura non si ferma, la cultura deve andare avanti. Presenteremo prima una mostra di Matteo Sambero, quindi un giovane, un giovane ragazzo che viene dall'Accademia Santa Giulia e che attraverso lo strumento di una finestra ha uno sguardo sul mondo, lo sguardo del mondo in quel momento sul Covid. Ma la finestra aperta segnala che c'è la possibilità di vedere le persone, di contattarle, di stare in linea ancora con loro. Poi vedremo un'altra mostra del professor Chiarini e della professoressa Appala legata al mondo dei giovani nel periodo fascista. Quindi anche qui parleremo di giovani in un modo diverso, quindi troveremo la modalità di far capire come i giovani venivano istruiti in quel periodo. La terza mostra che andremo a fare è sicuramente legata ancora al mondo dei giovani, perché lì vedremo, dopo dieci anni di questo premio Nocivelli, dove è stato attivato dalla famiglia di Nocivelli e dall'associazione Tecne la possibilità di dare ai ragazzi di creare arte moderna. E quindi quest'anno i vincitori di questo premio verranno da noi qui in Palazzo Martinengo, che ormai è diventato un marchio, e verranno qui e metteranno in mostra le loro migliori opere. Quindi credo che questa sia la possibilità di dimostrare che Palazzo Martinengo è diventato un hub, un centro non solo per tenere il collegamento tra città e provincia, ma di svilupparne la parte migliore che è la parte della cultura. Perfetto, la ringrazio molto.